Io da alcuni anni avevo bisogno di trovare qualcosa che mi aiutasse a migliorare la postura, a sentire meglio il mio corpo, a gestire meglio i movimenti, a controllarli meglio. Siccome sono una cantante lirica, sto studiando per diventare una cantante, per noi è importantissimo sapere controllare i movimenti quando cantiamo perché fa una parte della professione e questo mi mancava dallo studio in conservatore che abbiamo fatto purtroppo e quindi da un po' di anni io sognavo di studiare un po', di provare un po' la danza classica e quest'anno per fortuna sono riuscita a trovare il tempo, sono andata a curiosare su YouTube, ho visto lei una bellissima donna e mi ha affascinato già sul video, poi sono andata a fare la lezione di prova e là Alina mi ha affascinato totalmente, mi ha convinto, allora mi sono buttata felicissima e ho capito, ho trovato quello che cercavo proprio, era proprio quello che dovevo fare e che mi mancava e che mi sta aiutando tantissimo adesso quando io mi esibisco, quando io canto, già sono tantissimi miglioramenti dei movimenti e poi dopo ogni lezione io esco e sento come un palsamo sulla mia schiena perché soffro di postura sbagliata poi quando è nato il mio bambino e peggiorato molto quindi sentivo un disturbi proprio, tanto disagio per la schiena e secondo me è la disciplina di danza classica è proprio la cosa più giusta per correggere perché ho fatto alcuni esercizi per la schiena magari erano parzialmente efficaci, sono andata da osteopata, niente non rendeva così tanto come questo corso, fatto tra l'altro pochissimo tempo vedo tantissimi miglioramenti, tantissimi benifici